Alleluia! Sicuramente questo messaggio continuerà fino a domenica. Ma quanti si sono mai trovati ad aspettare un autobus? E quanti di voi correvate perché stava arrivando alla fermata? E dopo aver corso, appena eravate una decina di metri di distanza, se ne va. È successo a tutti, credo. Alleluia! E poi tu dici a te stesso, ho corso in vano. Ma forse nella tua mente già c'era la convinzione che non ci saresti arrivato. Però hai corso ugualmente perché non volevi vivere con il rammarico di non averci provato. E chi ci prova si sente poi, ma almeno ho corso, ho fatto la mia parte per raggiungere l'autobus, arrivare alla fermata. Ovviamente poi ti sei lamentato con quelli che erano vicini e dici, finne prima tuo tempo. E per questo l'ho perso. Ma la verità è che nella vita noi corriamo in tante direzioni e lo facciamo anche con le cose di Dio, preghiamo in fretta perché dobbiamo correre, continuare a correre. Leggiamo la Bibbia così, un versetto solo perché non abbiamo il tempo. Guardiamo sempre l'orologio per vedere quanto tempo abbiamo a disposizione. Magari leggiamo o preghiamo per un tot di tempo e poi ci sentiamo pure il senso di condanna perché avremmo dovuto farlo di più e non l'abbiamo fatta. A quanti succede questo? A nessuno, vero? E io voglio parlarvi di qualcosa di particolare. Perché io credo che noi facciamo parte della storia. Quanti noi crediamo che facciamo parte della storia? La maggior parte non credo. Ti sei mai chiesto perché sei nato? Perché sei nato ora? Nessuno se lo chiede? Io ringrazio Dio che sono nato nel tempo in cui sono nato. Quanti ringraziano Dio che sono nato nel tempo in cui sono nato. Non c'era tempo migliore. E io trovo grazia presso il Padre quando mi metto davanti a Lui e il suo sguardo approva la mia corsa. A volte non sembra che sia una corsa. A volte sembra che sia uno sforzo. A volte sembra essere un peso. Altre volte sembra essere un dovere. Altre volte un obbligo. Ma la verità è per tutti noi. E parlo di tutti noi indissintamente. Noi viviamo con la frustrazione. Perché dentro di noi ci sentiamo insoddisfatti. perché c'è sempre un punto interrogativo nella nostra vita e la domanda, la perplessità che forse non stiamo facendo esattamente quello che Dio vuole. E non parlo io del peccato. Io parlo del volere di Dio per la tua vita. Quanti voi sapete ciò che Dio vuole per voi? Se io vi chiedessi cosa vuol dire essere cristiano? Sicuramente la maggior parte mi dareste questa risposta. Una persona che ha creduto in Gesù Cristo ha accettato il sacrificio di Cristo se ne è appropriato del sacrificio di Cristo ed è diventato un credente. Quanti voi pensate che questa sia la risposta giusta? Però poi il Signore parla di discepolato parla di consagrazione e parla di paraocchi che dovremmo mettere per concentrarci su quello che Dio ha progettato per noi. L'Apostolo Paolo viveva in tal modo infatti disse io non corro come uno che batte l'aria. Ogni momento dice alla persona accanto ogni momento ha il suo valore ogni momento vale qualcosa. Galati capitolo 2 versetto 2 Dice or vi salì per rivelazione ed esposi loro l'Evangelo che io predico fra i gentili ma lo esposi privatamente a coloro che godevano maggior credito perché non corressi o non avessi corso in vano come quando si insegue l'autobus non lo hai raggiunto e poi dice ho corso in vano Filippesi 2 16 Filippesi 2 16 Alleluia Quanti di voi anche da soli riflettete a qual è il progetto di Dio il piano di Dio il proposito di Dio quanti voi ci pensate a questa cosa? Filippesi 2 16 dice affinché nel giorno di Cristo abbia di che gloriarmi per non aver corso in vano né in vano faticato non solo non voleva correre in vano ma non voleva nemmeno faticare per niente perché ogni fatica aveva il suo valore ogni passo durante la sua corsa ha un valore aveva un valore aveva un significato quanti di voi ringraziate il Signore che qualcuno vi ha parlato di Cristo e quanti di voi apprezzate chi ha ubbidito il Signore per parlarvi di Cristo Romani capitolo 10 alleluia conosco e è successo anche nella mia famiglia una falsa gravidanza cioè una sacca era piena di liquidi ma non c'era nessun bambino lì dentro e a volte la nostra fatica ha l'apparenza di una gravidanza ma non c'è frutto quanti noi vogliamo essere fruttiferi e non vogliamo affaticarci per niente vogliamo che la nostra fatica alla fine abbia un frutto che si possa dire questo è il frutto e spesso parliamo dell'opera di Dio parliamo di come siamo coinvolti con l'opera di Dio ciò che Dio vuole fare desidera fare ok ma ci vuole ubbidienza passi di ubbidienza per portare a termine il progetto di Dio romani capitolo 10 leggiamo dal versetto 12 poiché non c'è distinzione fra il giudeo e il greco perché uno stesso è il signore di tutti ricco verso tutti quelli che lo invocano infatti chiunque possiamo leggere insieme chiunque avrà cosa invocato il nome del signore sarà salvato quanti noi lo sappiamo in memoria chiunque avrà invocato diciamo invocato il nome del signore sarà salvato un giorno tu hai invocato il nome del signore e il signore ti ha salvato meraviglioso e noi ringraziamo Dio però c'è stato un processo che ci ha portato a invocare il nome del signore leggiamo più sotto verso 14 come dunque invocheranno e lui fa Paolo fa queste domande come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto e come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare e come udiranno se non c'è chi predichi e come predicheranno se non sono mandati qualcuno deve essere mandato quando ubbidisce e va che cosa fa predica una volta che predica che cosa fanno altri lo sentono lo sentono e quando lo sentono che cosa fanno credono e quando credono che cosa fanno invocano e noi diciamo si invoca il nome del Signore versetto 17 qui sotto dice la fede dunque viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio quindi ci vuole uno che è mandato che ubbidisce il mandato poi c'è bisogno che il mandato si adempia attraverso cosa la predicazione e chi ascolta la predicazione che ode la predicazione che cosa fa comincia a credere perché produce fede in colui che ascolta nella persona che ascolta e lo porta a fare che cosa a invocare il nome del signore vedi questo processo io ho detto signore vieni nella mia vita è venuto nella mia vita gloria a Dio alleluia sono salvato ma c'era qualcosa che Dio stava progettando aveva progettato per arrivare o per portare te e me al punto di invocare il suo nome l'obiettivo qual era di invocare però c'è un processo Paolo tu devi predicare e Paolo capiva esattamente quello che doveva fare aveva bisogno di capire il mandato di Dio poi aveva bisogno di adempiere il mandato di Dio una volta che aveva adempiuto che cosa faceva che pregava che le orecchie dei fedeli che potevano ascoltare che le orecchie sarebbero state sturate aperte affinché potessero udire la parola del Signore per produrre fede nella loro vita e rispondere alla chiamata di Dio dice sì sono un peccatore ho bisogno di Dio e cominciano a invocare il Signore quanti di voi vi sentite come se già avete aveste risposto alla chiamata di Dio ebrei capitolo 12 ebrei capitolo 12 a volte noi citiamo ci diamo ci prodighiamo facciamo passi verso ciò che sentiamo essere il proposito di Dio e andando verso questo proposito in qualche modo ci sentiamo soddisfatti nel nostro uomo interiore perché stiamo facendo questi passi ma noi facciamo possiamo pure fare passi che sono dei nostri pensieri e non passi che sono ordinati da Dio ebrei capitolo 12 versetto 1 anche noi dunque essendo circondati da un così gran numero di testimoni deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci corriamo con perseveranza diciamo insieme corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti tenendo gli occhi su Gesù che è che cosa autore e compitore della nostra fede il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì che cosa la croce forza insieme disprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori affinché diciamo insieme non vi stanchiate e veniate meno è stato proprio ieri sera in zona nord alla fine della celebrazione un fratello di passaggio così mi ha guardato e mi ha detto non ti arrendere mai e in quel momento è come se io sentissi lo Spirito Santo che mi diceva non ti arrendere mai e io ho detto e la mia risposta è stata molto semplice perché Dio mi ha dato qualche opzione io e Lidia opzioni non ne abbiamo noi siamo qui dove il Signore ci ha mandato e qui rimarremo finché il Signore ci porterà a casa oppure lui tornerà ma saremo qui che cosa succede è che presto nelle difficoltà cominciamo a dimenticare coloro che ci hanno passato il testimone altri fratelli che sono andati prima di noi vi racconto un sogno un fratello l'ha avuto della nostra comunità che me l'ha raccontato mi disse dice come se io mi trovassi insieme alla comunità a questa comunità dice tutto ad un tratto dice guardo verso il cielo e vedo gli uomini di Dio che hanno servito in questa città e che si affacciavano tra le nuvole si affacciavano ha visto una nuvola di testimoni che si affacciava e diceva state correndo bene state facendo bene continuate continuate questo sembrerebbe una un sogno strano ma per me personalmente ha molto valore alleluia non dico il nome del del pastore lo conosce molti di voi lo conoscereste ma diceva state facendo bene continuate non vi fermate incitava questa nuvola di testimoni che spronava e lui appena ha avuto questo sogno me l'ha raccontato subito e mi è stato di grande incoraggiamento ma queste queste parole dice deposto ogni peso è il peccato che ci sta sempre attorno diciamo insieme allettandoci un significato di questa parola significa costringendoci alletto allettandoci è come se il peccato volesse farci addormentare mentre era tempo di essere più desti e svegli che mai nella quotidianità viviamo o affrontiamo meglio dire affrontiamo circostanze difficili affrontiamo persone intorno a noi che ho qualcuno che è malato un'altra persona che è bisognosa un'altra persona che magari ha fame oppure ci sono problemi di matrimonio o ci sono problemi in famiglia si vedono famiglie proprio sgredolate famiglie distrutte e che non si vede durante la giornata e lentamente lentamente che cosa fa che cosa fanno tutti questi pensieri ti portano sempre di più ad abbassarti abbassarti appesantirti dove satana in ogni modo cerca di intrufolarsi nella tua mente per darti suggerimenti che sono contrari alla parola di Dio e sei così stanco che non ce la fai più ti avvilisci la situazione ti vesta al punto che tu ti arrendi e ti lasci trasportare dal momento dalle persone ti lasci trasportare ma la scrittura dice ricordati che stiamo correndo dobbiamo correre con perseveranza costanza cioè quando tu metti le mani all'aratro non ti voltare indietro mettiti i paraocchi quando tu hai le mani all'aratro quando il Signore ha mandato i Suoi discepoli dice non salutate nessuno per via che cosa gli stava insegnando ad essere maleducati assolutamente no non siate distratti da nessuno perché io so come se Gesù dicesse io conosco il maligno so e conosco le sue strategie e vuole distrarvi dal proposito che vi ha messo davanti e l'obiettivo che vi sta davanti e ci vuole fermare ma dobbiamo correre paraocchi perseveranza la gara che ci è posta davanti non di lato e non dietro davanti diciamo insieme davanti la gara ce l'abbiamo davanti la gara è per raggiungere il futuro non è per ritornare al passato è pensare a quello che poteva essere una volta fratelli il nostro destino non ci sta dietro il destino ci sta davanti dice tenendo gli occhi su Gesù autore e compitore lui ha iniziato e lui lo completerà tenendo gli occhi su lui che inizia l'opera e tenendo sempre gli occhi su di lui lo seguiamo lo seguiamo fino a quando raggiungeremo la meta arriveremo al compimento della cosa ma la fa tutto Gesù e quando noi teniamo gli occhi sulla sua persona le sue caratteristiche cominciano a manifestarsi nella nostra vita e noi cominciamo a cambiare e strada facendo diventiamo sempre più idonei al compito che lui ci ha messo davanti ci dà la capacità di fare le cose che non potevamo mai fare nel passato e per questo lui ci chiama collaboratori noi siamo collaboratori di Cristo noi lavoriamo insieme a Cristo e Cristo lavora e lavora con noi egli li manda dice andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura e la scrittura dice che Gesù li accompagnava compiendo segni miracoli e prodigi ma Gesù con loro l'autore è compitore la chiesa a Galadi aveva iniziato per lo spirito e va a finire nella carne aveva iniziato con la quella prontezza spirituale quella determinazione di far parte di tutto tutto quello che Gesù aveva progettato solo per per poi allettando Satana il legalismo lentamente li lavora li lavora li lavora fino a quando cominciano a perdere la loro libertà e ritornano dove era prima fratelli il futuro non sta nelle mani del passato il futuro sta nelle mani di Dio e l'ha già programmato per la tua vita egli è l'autore e compitore della nostra fede il quale adesso parla di Gesù come il nostro esempio Gesù è il nostro esempio ti faccio vedere esattamente come l'ha fatto Gesù Gesù dice per la gioia diciamo insieme per la gioia che gli fu posta davanti per la gioia che gli fu posta davanti cioè non gli stava dietro la gioia la gioia la vedeva in visione la gioia la vedeva nel futuro la gioia che gli stava davanti lui dice ha sofferto dice soffri la croce disprezzando il vituperio e si è posta a sedere alla destra del trono di Dio quella era il traguardo il trono di Dio la destra alla destra di Dio padre quello era l'obiettivo il traguardo per Gesù e Gesù in mezzo a tutta questa sofferenza il vituperio che è dovuto soffrire la croce del calvario quel tipo di morte che ha affrontato ma guardava sempre dall'altro lato fino a disprezzare il vituperio ma che cos'è il vituperio il vituperio è niente quando lo metto a compararlo con quello che Dio ha già nel futuro ha visto me ha visto te ha visto la Chiesa glorificata una sposa accanto a lui wow ma che cos'è il vituperio è solo di passaggio sto guardando oltre e va verso la croce il suo spirito gioioso per quello che gli stava davanti e lui mette il mette il suo il suo essere tutto il suo essere lo mette in careggiata e dice ok corriamo questa gara lo so che dobbiamo passare per il calvario ma passeremo dall'altro lato il terzo giorno lui già lo sapeva e l'aveva già raccontato a tutti dice si andrò a Gerusalemme e Lassaro mi arresteranno e lì saranno poi mi condanneranno a morte e poi sarò crocifisso ma il terzo giorno io risusciterò già sapeva tutta la storia e la gioia che era non era questa la sofferenza ma era era il fatto che lui già dall'altro lato vedeva qualcosa di straordinario e diceva ma io già vedo una chiesa glorificata vedo una chiesa santificata vedo una chiesa giustificata resa perfetta davanti a Dio ne vale il mio sacrificio e fa un passo ancora di più verso la croce questo è l'autore e compitore della mia fede alleluia e dice così ora considerate lui considerate lui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori a noi il peccato che vuole allettarci per lui i peccatori che lo bombardavano peccatori che volevano ucciderlo peccatori che se lo volevano togliere di mezzo dice questa era una sopportò una tale opposizione contro di sé hai mai sopportato qualcosa di negativo contro di te contro la tua vita l'hai mai affrontata e tu pensi e tu pensi nella tua mente signore io so che uscirò dall'altro lato da questa situazione e tu cominci a vedere la gioia che c'è dall'altro lato la gioia che Dio ha preparato e quando tu quando tu rifletti e consideri cosa Dio ha preparato per la tua vita dentro di te non dico che ti viene un sorriso sulle labbra ma dentro di te tu senti una gioia nello spirito e la gioia dello spirito che tutto ad un tratto comincia a darti forza e davanti a tutte queste circostanze negative e tu stai affrontando tutte queste difficoltà ma sai che sai che sai che dall'altro lato ci sarà un momento straordinario e Gesù ci ha dato anche la scrittura e ci dà anche il motivo di sopportare questo momento di tale opposizione diciamo insieme affinché non ci stanchiamo e non veniamo meno affinché non ci stanchiamo e non veniamo meno alleluia la difficoltà del credente è quello di stancarsi perché ci stanchiamo perché adesso servire il Signore è diventato quasi come un dovere quando tu perdi la gioia in fare qualcosa è tempo che tu esamini te stesso alleluia una volta ricevetti una chiamata ho fatto una nottata in bianco nemmeno a chiudere un occhio era sabato sera fino a domenica mattina c'era la celebrazione questo è successo molti anni fa e un fratello che cantava mi ha detto dice dice io dice non posso venire dice perché ho dormito solo quattro ore dice quindi volevo chiamarti per dirtelo signore io chi devo chiamare ascoltatemi le difficoltà della vita ti porteranno sempre ti porteranno sempre a stancarti oh ma io e domani vediamo da quant'altro comincia la pandemia che non scende ma io devo dormire sai che cosa succede è il momento in cui tu ubbidisci ti arrivano nuove forze alleluia ti arrivano nuove forze che ha bisogno di nuove forze il signore ti vuole dare nuove forze non ti stancare dice la persona accanto non ti stancare l'autore è compitore della nostra fede è il nostro aiuto e per la gioia che gli stava dinnanzi sopportò il viduperio la croce ha sopportato ogni cosa affinché noi potessimo vivere con questa grazia ed essere incoraggiati questa sera a non stancarci e arrenderci alleluia credo che sia arrivato proprio a metà di quello che volevo comunicarvi continueremo domenica ma voglio dirvi semplicemente questo che il signore vuole collaboratori instancabili alziamoci in piedi alleluia quanti noi ci riteniamo collaboratori di Dio ci sono credenti ma voi ci sono anche discevoli ci sono credenti ma voi ci sono anche discevoli credenti vanno a chiesa i discevoli hanno un rapporto con Cristo quotidianamente e sviluppano questo rapporto con il signore padre noi vi ringraziamo che per la gioia che ci sta dinanzi abbiamo messo le mani a questo radro e non ci volteremo indietro signore non è che non è possibile stancarci certo che ci stanchiamo ma fa che possiamo incidarci l'uno o l'altro per dire noi non ci stancheremo perché i nostri occhi sono fissi sull'autore e compitore della nostra fede Gesù tu compirai meraviglie in questa città lo farai e siamo più vicini che mai ma ti stiamo chiedendo signore questa sera che tutte tutte le cose alle quali tu ci hai chiamato fa che ciascuno possa mettere le mani a quella radro e mai voltarsi indietro mai fermarsi ma continuare mantenendo gli occhi fissi su Gesù Cristo Gesù grazie perché in te troviamo la forza ogni giorno di correre senza correre in vano correre come per raggiungere il palio il premio ottenere il premio non battere l'aria ma ogni giorno è un'occasione per noi di valutare esaminare dove è il nostro cuore dove sono i nostri pensieri signore qual è la nostra visione noi ti ringraziamo signore per quest'opera per questi cari per questi fratelli e tra di noi signore ci sono compagni d'opera e ci sono anche compagni d'armi e noi ti ringraziamo che tu farai di tutti noi compagni di armi e compagni d'opera ti ringraziamo l'eterno vi benedica e vi custodisca e gli faccia risplendere il suo volto su di voi e vi dia pace quotidianamente che gli allontani da voi la malattia e la discordia dalle vostre case e che ci sia pace assoluta nel nome di Gesù amè amè Dio vi strabenedica grazie